Hai presente quel fastidio terribile che ti viene quando ti guardi allo specchio e vedi che hai quel rotolo di pancia, quel accumulo di grasso sui fianchi o sulle cosce e proprio non lo sopporti, cioè non ce la puoi fare. E da una parte ti dici che dovresti accettare questa cosa che non ti piace, ma dall'altra quel fastidio rimane perché tu vorresti che quel corpo fosse diverso in qualche modo. E quindi te ne stai lì tra il dovrei accettarmi così come sono, ma non ci riesco perché comunque provo ancora questo fastidio ogni volta che mi guardo di diversa intensità e quindi vorrei cambiarlo. Quindi se hai sperimentato questo, questo è un video in cui ragioniamo insieme su cosa si può fare per uscire da questo pantano. Questo video nasce da un colloquio che ho appena avuto con una delle donne che seguo da qualche settimana in cui è emerso proprio questo tema, cioè il fatto che ci fosse questo fastidio rispetto al proprio corpo mentre stavamo facendo il nostro percorso e quello che è comune fare soprattutto oggi quando da diversi anni che si assiste a questa diffusione della body positivity, del promuovere un corpo con il quale sia una relazione di amore, di accettazione. E allora questa persona mi diceva che prova questo fastidio, questo disagio che poi ha nominato appunto proprio fastidio e mi diceva che in passato questa cosa l'avrebbe fatta sentire in colpa, cioè in colpa l'ha fatto di provare fastidio verso il proprio corpo perché tutti ti dicono che ti devi accettare così come sei, che vai bene così, che devi andare bene insomma e se provi qualcosa di non allineato con quella corrente vuol dire che sei sbagliata. Ecco, la prima cosa da fare è che se provi delle emozioni spiacevoli, di fastidio, di rabbia, di disgusto verso il tuo corpo o delle parti del tuo corpo non c'è niente di male, ok? È importantissimo fare questa cosa, cioè precisare il fatto che bisogna normalizzare ciò che proviamo sempre anche nei confronti, anche e soprattutto nei confronti del nostro corpo, che sia bellissimo l'amore di sé, i body positivi, c'è tutto quanto, è bello, io ci credo in questa cosa ma la cosa più importante in cui credo è le emozioni e ciò che c'è di vivo in quel momento dentro di noi verso tutto ciò che ci riguarda. Quindi il punto qua è che non c'è niente mai di male nel desiderare un corpo diverso da quello che abbiamo per un'infinità di motivi di cui ho parlato spesso qui sul canale, che è presente anche nella guida gratuita come sbloccare il peso con un approccio gentile che se ti interessa la puoi scaricare premendo nel link qui sotto, insomma te la metto nella descrizione, però è totalmente normale che questo desiderio ci sia e che quindi quando si scontra col fatto che non ci sia in quel momento la possibilità di controllare il corpo per assecondare quel desiderio, che questa cosa crea comunque un attrito dentro di sé. Ora, il punto qual è? Il punto è capire qual è il confine e cos'è più giusto fare accettarsi così come si è senza fare niente oppure spingersi a voler migliorare quindi mettersi in un obiettivo di miglioramento per il proprio corpo. Allora, a mio modo di vedere queste sono due cose che non vanno in contraddizione ma bisogna cambiare i termini con i quali ragioniamo di questo tema perché? Perché per ciò che riguarda il proprio benessere è secondo me un diritto desiderare che il proprio corpo appunto possa essere e apparire in modo diverso da come appare in questo momento Questo però non prescinde dal fatto che si possa lavorare sul sviluppare una relazione gentile, amorevole e un rapporto di accettazione verso il proprio corpo Quello che in realtà deve cambiare è il ragionare sul cosa posso fare per migliorare che ha quanto spazio ho di cambiamento Perché? Perché se tu ragioni su qual è il mio spazio di miglioramento riferito al tuo corpo significa che stai dando per scontato che un corpo mettiamo con meno pancia sia un corpo migliore di un corpo con più pancia e che quindi esista una scala di valore morale sulle forme e dimensioni che ha un corpo quando in realtà questo è un errore di ragionamento e di credenze soprattutto dove si pensa appunto che ci sia un corpo migliore, un corpo peggiore, un corpo più bello, un corpo meno bello Perché non è così Quindi intanto riconoscere che non si sta parlando di uno spazio di miglioramento quindi aree di miglioramento ma spazio di cambiamento Quindi ragionare su questo, su qual è lo spazio, l'area all'interno della quale io posso lavorare attivamente per attuare un cambiamento nel mio corpo che poi per me si può riflettere in un cambiamento di conformazione meno pancia, meno cosce, meno qualcosa però è uno spazio di cambiamento dato da un mio desiderio personale basato su una scelta che io faccio che è libera e personale quindi io non andrò più a giudicare in generale un corpo con più o meno pancia come giusto, come sbagliato ma riporterò il tutto a una mia preferenza personale e qui il primo punto è questo quando noi ragioniamo su, non più su cosa posso fare per migliorarmi ma su quale spazio di manovra ho per un cambiamento cambia anche ciò che implica questo ragionare sullo spazio e quindi il margine di cambiamento implica il capire, ragionare su qual è il margine di azione che hai effettivamente sul tuo corpo quindi per avviare un cambiamento tutti questi ragionamenti sono fondamentali perché ti evitano di fare scelte impulsive perché tu ora sei abituata a fare scelte per il tuo corpo mossa da quel disagio pazzesco quando si guarda allo specchio che ti porta rabbia, frustrazione, disgusto, disprezzo contro te stessa senti tutta questa mega palla avvelenata di emozioni che tu valuti come negative perché ti fanno stare male e allora per uscire il più velocemente possibile da quel disagio prendi e ti butti nella prima dieta innesima, nella prima roba assurda che ti darà un risultato nei brevi termini ma che poi ti porterà nel solito disastro nel solito ciclo che ti porterà solo a ulteriore frustrazione perché conosciamo, perché abbiamo già visto il ciclo delle diete quindi il punto qui è invece passare e capire come passare da queste scelte impulsive a delle scelte più ragionate più fatte sul ragionamento più analitico e riflessivo su quella che è la tua esperienza e che include anche le emozioni quindi non stiamo dicendo di ragionare appunto come se sulle nostre scelte come se quelle emozioni non esistessero sia quelle piacevoli che quelle spiacevoli ma ragionare includendole quindi riconoscere la rabbia, il fastidio e capire che cosa significano per noi e anche sulla base di quelle fare delle scelte quindi quali sono i fattori da tenere in considerazione per capire qual è il margine di cambiamento e che tu puoi attuare nel tuo corpo li vediamo immediatamente il primo fondamentale da tenere in considerazione è la genetica slash biotipo costituzionale quindi per genetica si intende non solo quello di cui spesso parliamo che è il nostro peso naturale, peso di equilibrio cioè quell'intervallo di peso dove il nostro corpo tende a voler stare proprio spontaneamente, naturalmente e per ognuno di noi è diverso ma anche per una questione questo peso, questa genetica si riflette anche nel biotipo costituzionale perché una donna che ha una conformazione più a mela per capirsi o a pera o a crescidra quindi per andare un po' a queste forme dove ci capiamo meglio queste donne hanno ognuna una diversa tendenza ad accumulare il grasso nel corpo e io per esempio ho conosciuto donne magre con una conformazione a mela che hai voglia di essere magra ma l'accumulo di grasso sulla pancia era una cosa che queste donne non si sarebbero mai tolte a meno che non avessero fatto il loro stile di vita non fosse stato tale da far sì che poi anche quella poco grasso che rimaneva lì andasse via però qui c'è proprio una questione di genetica e biotipo costituzionale e viceversa una donna con una conformazione più a crescidra spesso la pancia ce l'ha tendenzialmente più piatta ma ha più abbondanti cosce, glutei e fianchi questo perché appunto è una questione genetica poi è vero che si può in certi casi poi anche una donna magra con costituzione a mela può avere una pancia piatta e questo succede quando spesso io lo vedo in persone che fanno attività agonistiche sportive dove il tipo di movimento, il tipo di alimentazione ma tutta la vita è praticamente centrata se non più o meno centrata comunque è una parte molto importante lo sport di quel tipo e quindi il corpo sulla base del movimento che dovrà andare a fare e tanto più ripetutamente questo viene fatto frequentemente nell'arco della settimana del mese eccetera e tanto più il corpo si modella anche sulla base di quel tipo di attività che si viene a creare cioè io faccio l'esempio per esempio delle palaboliste che notoriamente hanno un gluteo sviluppato ma non è che loro si allenano per avere il gluteo in quel modo loro si allenano, fanno un certo tipo di esercizi, di movimenti che poi di riflesso quel lavoro sulla performance gli fa avere anche quel tipo di gluteo formato in quel modo lì con quella massa muscolare lì quindi è un effetto proprio collaterale diciamo e quindi questa è la prima cosa quindi chiedersi ma com'è il mio biotipo costituzionale la mia altezza dove tende l'accumulare grasso che conformazione ho dove è stato il mio peso tendenzialmente per la maggior parte della mia vita dove tende un po' a stare perché è lì che c'è un primo primissimo margine di manovra diciamo se vogliamo identificarlo ed è una cosa che è abbastanza imprescindibile e non è modificabile in alcun modo appunto a meno che non tu decida di diventare una campionessa olimpionica di un qualche sport che allora è un altro discorso poi il secondo aspetto da valutare è le tue risorse quindi quanto tempo hai da dedicare a questo progetto di cambiamento quanto tempo hai da dedicare al movimento soprattutto ai tuoi pasti alla scelta dei tuoi pasti al cucinare quante risorse economiche hai quanto ecco le risorse sono un aspetto fondamentale da vedere perché il tempo e il tempo e la disponibilità che c'è intorno a te anche a livello di supermercati e la disponibilità economica sono fattori sicuramente indispensabili da valutare e ognuna ce l'ha in modo diverso ma anche risorse di persone perché se hai una famiglia di cui occuparti dei genitori anziani dei figli sicuramente avere risorse quindi persone che si possano occupare a posto tuo di loro è importante e l'altro aspetto è in ultimo valutare l'equilibrio con le altre aree della tua vita quindi se io dedico tutto questo tempo a questa cosa è lì che direzione la mia energia quindi se direzione la mia energia lì vuol dire che la sto togliendo da qualche altra parte e questo potrebbe essere un problema a volte e quindi qui cos'è che aiuta? qui aiuta a capire cosa è opportuno fare per ottenere quel cambiamento e provare a fare a immaginare i prossimi 3, 4, 5 mesi del tuo nuovo stile di vita con le tue nuove abitudini con la tua nuova frequenza di allenamenti con una nuova tipologia di allenamenti con una nuova tipologia di alimentazione e lì vedere ora che ho capito che io devo fare tutte queste cose qua sempre le immagino nella mia vita insieme a tutte le altre cose di cui mi devo occupare e che voglio fare a cosa sto togliendo energia? a cosa sto togliendo spazio e attenzioni per dedicarle a quella cosa lì? anche solo un'ora in più alla settimana dedicata a un certo tipo di attività fisica che cosa implica come cambiamento in generale? chi ne risentirà? come mi farà sentire? sulla base delle tue esperienze passate quanto sforzo è per te realmente sostenibile per attivare quel cambiamento? queste sono solo alcune domande che tu puoi fare iniziare per ragionare su in che misura c'è questo spazio quest'area di cambiamento nella tua vita per lavorare sul tuo corpo lavoro che poi va sempre a mio modo di vedere abbinato ad un lavoro sulla gentilezza appunto verso il proprio corpo verso come è verso le caratteristiche che ha e i doni e le qualità che ha che anche se oggi vedi come difetti in realtà hanno un grande potenziale comunque quindi fammi sapere cosa ne pensi e se questo ragionamento ha iniziato un po' a lavorare dentro di te e che riflessioni ti ha fatto fare scrivermi le in un commento qui sotto perché sono davvero curiosa di sapere come iniziare a ragionare in questo modo porta dei cambiamenti nei tuoi obiettivi anche per questo nuovo anno che è appena arrivato ti mando un abbraccio e ti aspetto qui nei commenti